Il 17 ottobre 2010 nasce Civica Scuola delle Arti. L'impegno profuso da fabbrica armonica nel campo della formazione e divulgazione musicale, la sua costante energia, tutta tesa a illustrare e costruire un ponte tra lo studio e la produzione musicale, dal perfezionamento fino alla propedeutica, Tutti questi elementi si incontrano con la sensibilità del municipio Roma 3 e del suo presidente Dario Marcucci, confluendo nel progetto Civica Scuola delle Arti. Il programma didattico di Civica è un esempio pressoché unico di integrazione dei percorsi, dalla propedeutica fino al perfezionamento, con un solo armonico motivo ispiratore, lo sviluppo dell'integrazione sociale e della sensibilità attraverso la musica. La propedeutica strumentale Percussioni, pianoforte, archi, fiati e strumenti a pizzico a partire dai 4 anni di età. I corsi ordinari, strumentali e vocali Tutte le discipline, con programmi di durata compresa tra gli 8 e i 10 anni, per una formazione musicale completa, rilascio di certificazioni internazionali, Associated Board Royal School of Music, materie complementari come lettura, percezione, armonia, storia della musica, informatica, elementi di composizione e attività musicali di insieme obbligatorie. I corsi pre-accademici, tenuti da professori del conservatorio, per quegli studenti che vogliono conseguire le certificazioni di competenza, indirizzandosi così ai corsi accademici di fascia universitaria. Tutte le discipline principali e numerose materie complementari, programmi di studio personalizzati a seconda delle esigenze, articolazione delle lezioni modulabile in accordo con docenti prescelti. I corsi internazionali di alto perfezionamento, annuali, biennali o triennali, tenuti da concertisti e docenti di rango internazionale e finalizzati alla performance solistica, cameristica o alla ricerca musicologica. In ciascuno di questi quattro segmenti, gli studenti, dai più piccoli fino ai perfezionanti, sono continuamente immersi nelle complesse dinamiche del fare musica, resi protagonisti di eventi e produzione musicale anche a carattere internazionale, sia come primi attori che come ingranaggi fondamentali della macchina organizzativa. A rendere tali impegni organi con l'esperienza didattica, Civica Scuola delle Arti ha creato i progetti speciali permanenti. Coro di Gucci Bianche Pueri Cantores Rome Youth Choir Orchestra Giovanile Coro Polifonico Cantoria Nova Romana Ensemble di Percussioni Ensemble di Strumenti a Pizzico Ensemble di Fiati I quali si aggiungono quest'anno la Civica Big Band e di Laboratori Musical e Rock Band Ognuno di questi progetti è pensato per una specifica fascia di partecipanti. Tutti sono accomunati da una pianificazione di eventi che ne costituiscono la finalità più visibile, dando anima al lavoro da svolgere. Sono innumerevoli le iniziative a carattere divulgativo e formativo e i progetti artistici che irradiano verso l'esterno la filosofia di Civica Scuola delle Arti e di Fabbrica Armonica facendone operatori culturali a tutto tondo. Musicar Parlando Cicli di conferenze multimediali sulla storia della musica dall'antichità fino ad oggi con ascolti, visioni, eseguzioni dal vivo e dibattiti. Choir Winterfest Il Festival Internazionale dei Cori Formazioni vocali provenienti da Italia ed Europa ad animare il periodo delle festività natalizie nella capitale. Giovani Musici Concorso e rassegna nazionale dedicata al talento fino ai 18 anni di edà Una veterina e un vero trampolino di lancio per solisti Formazioni da camera, gruppi, cori e orchestra provenienti da tutta Italia. Inside the Music Incontri concerto a contatto con gli interpreti svelando il personale rapporto con la musica e il proprio strumento. Musica Ergo Sud Un programma di alfabetizzazione musicale, teorica e pratica per adulti e universitari con guida all'ascolto, approfondimenti tematici corsi e laboratori collettivi strumentali e vocali. Music in Progress L'apertura al mondo della musica pop, rock e jazz computer music, laboratori strumentali, improvvisazioni e band per i giovani. Gioco la musica Sperimentare la capacità creativa e attoriale dei giovanissimi fino a 10 anni di età Allestire una piccola rappresentazione operistica Studiare le arie, la recitazione, accompagnarle strumentalmente Costruire scene e costumi come già avvenuto con il flauto magico di Mozart. Music Factory Civica entra nelle scuole primarie e secondarie con un progetto di educazione e divulgazione musicale articolato in moduli Concerti di grande impatto e facile ascolto Catturare l'attenzione dei ragazzi Alimentare il loro interesse Insegnare la musica attraverso l'entusiasmo per la musica Music Campus Un vero e proprio campus estivo musicale dedicato agli under 16 Corsi, attività d'insieme, laboratori e concerti del Music Campus Festival Protagonisti sono i giovani Festival Federico Cesi Con sede in splendide città in Umbria come Todi, Acqua Sparta, San Gemini e Massa Martana Nella sua quinta edizione a partire dal 10 giugno 2012 Tre mesi di programmazione Circa 50 concerti che hanno visto avvicendarsi grandi interpreti del panorama mondiale Come Bruno Canino Jerome Rose Lior Shambana Vadim Brodsky Pavel Stödel Emma Kirby E di London Bark Solo per citarne alcune Degustazioni e valorizzazioni del territorio Opera, concerti sinfonici e da camera E didattica di alto perfezionamento Civica Scuola delle Arti È una realtà estremamente articolata Che si muove dinamicamente Producendo, intercettando e colmando La necessità di ascoltare e fare musica Difficile descriverne le azioni svolte a 360 gradi In questi due intensi anni di vita Formando, creando, diffondendo e promuovendo Civica è la musica intorno a te Civica Scuola delle Arti 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 Civica Scuola delle Arti